Salve, sono Akinetor, per iniziare clicca su Gioca, pensi ad un personaggio reale o immaginario? Proverò a indovinarvi, il suo personaggio viene dall'Italia? Ma dobbiamo continuare a farlo così Bella ragazzi, siamo tornati qui con un nuovo video di Akinetor E come avete visto dall'intro per bambini, dove diceva Gioca, noi abbiamo giocato Esatto, andremo a vedere cosa abbiamo fatto, anche se in realtà ancora non l'abbiamo fatto Allora, io proporrei di cercare comunque un luminare di questo secolo, di questa generazione, di queste e di quelle precedenti Che cazzo sta a dire? No, no, seriamente, dobbiamo cercare, perché ogni volta cerchiamo cazzate, capito? Gente inutile Quindi cerchiamo il cazzo? Spastica, cioè Cerchiamo un pene? No, no, cerchiamo un pene Io voglio cercare questo cazzo di luminare della nostra epoca Prima cerchiamo un pene? Va bene, prima cerchiamo Il sversaggio reale dall'Italia Anche, cioè Sì, tutto probabilmente Probabilmente, non lo so Vediamo se trovo un pene, regà Il sversaggio è femmina? No Assolutamente no Determina se sei femmina un maschio Il sversaggio è in tosta le scarpe? Ti immagini? Se hai fallo un pene? Con due converse? Che cammino? Il sversaggio ha che fare con Aginator? Beh, Aginator è un maschio? Non lo dà un pene Ma sì, come, guarda, è lungo apposta, perché quello lì è il portapene Ah, quello è il portapene? E per il resto è stato d'entrata la lampada Non lo so dai Il sversaggio è un animale Puoi usarlo come un animale Anche detto uccello, in effetti O pesce Vivi nell'isola delba Anche Non ci sapeva che pene nell'isola delba Oddio, se non c'è sta è meglio però Il suo personaggio ha a che fare con le tazioni di My Heart We Gone Beh, non parla proprio d'amore, ecco Il suo personaggio è un imperatore Un imperatore del pene Un imperatore del sto cazzo No Il suo personaggio è famoso per i suoi lavori di grafica Con gli schizzi 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 impressionistici fantastici Lo troverò mai Il suo personaggio è diventato famoso grazie ai pokemon Penomon È grosso È grosso Anche Probabilmente Combatte con dei guanti No Aspè il guante Aspè il guante Aspè è vero cazzo Ha il naso strano No Non è Voldemort Vigia pene Seguo fruttine con il cazzo Dove sei citta 3 Hai baffi Hai peli No Gioca nella paganese Si Così a buffo In attacco con il numero 10 Il pene Molti film A spasso con pene Le pene dell'inferno Il miglio pene Il pene verde La vita è pene Ho voglia di pene Ho voglia di pene Ho voglia di pene 3 metri sopra il pene Filmori d'alto a scuola Never back pene The walking pene Ci sta regà Terzo giornato per la sua corporatore ecile A volte si A volte no Sto pensando a Cuscino Morbido No A una migliore amica Si Cazzo Agisce solo E' un uomo di poche parole Il suo personaggio Ti so fa cosa Noo basta con sti pokemon E' legato al testo Oh Ci avevamo fatta Si Tommaggiti Bene ragazzi Io sono pene E oggi Cazzo Mi sto citando un po' Dicevamo con il gameplay Cazzo 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 Io cercherei comunque Detto illuminare italiano dei nostri tempi e tutto quanto Salvini Ok cerchiamo salvini subito Italiano No Una razza superiore Il suo personaggio attualmente ha più di 30 anni Si Il suo personaggio è una donna No Ogni tanto l'ho dubitato Se dubiti Porni a casa tua Il suo personaggio ha mai recitato il primo a casa tua Sorsaggio non è italiano Si vede dei tratti A casa tua Sorsaggio è mai apparsi Oh iazzi Pure troppe volte A casa sua No non è Matteo Non è Matteo Non è Sorsaggio è circondato spesso bene Mai nella vita No Cazzo quanto è tosta Cambia su quattro zampe Ogni tanto Quando parla con Berlusconi Si quando capita Dio è troppo politica sta cosa Sorsaggio ha fatto parte la serie violetta Ha una vita Poi di no però si Sto pensando a Matteo Salvini Oggi non c'è sta nero Non gli piace questa foto da Salvini Perché è nero Perché A casa A casa sua Siamo andati a salvia No che cazzo vuoi Ok ragazzi Anche questo video di Gretor è finito Ci siamo dilungati molto sul pene Che non è una cosa bella Noi dovremmo parlare altro Però vabbè Perciò L'abbiamo cercato soltanto due oggi Consigliateci cosa trovare nel prossimo episodio Magari nel prossimo episodio cerchiamo la figa E quindi niente ce lo dite E noi ci becchiamo al prossimo Bella Ciao Dai granassi Con questa voce sensuale Ragazzi benvenuti su Radio Pene Dove il pene è la misura di ogni cosa Voi voi Ditaci quanto ce l'avete lungo Noi tanto Noi tanto Ciao 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 Grazie a tutti.